Alessandro Cochi, lo intervistiamo questa sera come consigliere comunale del Popolo della Libertà, ci troviamo qui nell'Auleo Giulio Cesare, mentre nella piazza del Campitolio c'è una grande manifestazione di protesta da parte delle cooperative sociali e vogliamo sapere da un rappresentante della maggioranza cosa pensate di fare. Ovviamente vanno tutelate le cooperative sociali, altresì va garantito il massimo per la qualità del servizio, sicuramente ci sono delle notizie errate in questo perché per esempio è stata approvata una memoria di giunta alcune settimane or sono dove prevede una determinata percentuale fissa per tutti gli appalti di tutti gli assessorati e soprattutto i dipartimenti competenti, quindi non è vero che Alemanno e la sua giunta manderebbero a casa delle persone, anzi non vorrei che magari si sono create delle lobby, sicuramente fanno un lavoro importante qual è il recupero per esempio di ex tossicodipendenti, di ex detenuti, alle quali io come componente della destra sociale sono stato sempre molto sensibile perché credo nel reinserimento, credo che vada sempre offerta una doppia possibilità soprattutto magari a chi ha sbagliato, però altresì se c'è un progetto dove gli assessori competenti ai servizi sociali e all'ambiente sono sicuri di portare un bando ben fatto e che soprattutto garantisca la qualità del servizio e soprattutto il mantenimento della stessa, fermo restando che chi vincerà gli eventuali bandi che riguardano vari lotti ovviamente del verde pubblico ha come dovere quello di rintegrare il personale delle cooperative stesse presenti e passate, fermo restando che rimane una percentuale del 12% che non è poca cosa anche sullo stesso bando relativo all'assessorato. Lei può, non dico tranquillizzare perché poi dopo dovrebbe fare il sindaco, ma quantomeno poter dichiarare che uno spiraglio si apre? Lo spiraglio è già stato aperto, è stata fatta una conferenza dal sindaco, Premetto, cioè comprendo benissimo i malumori di persone che magari hanno dei problemi ovviamente anche sulla loro condizione futura relativa a permessi e situazioni varie però non penso che questa sia un'aggiunta che vuole cancellare il lavoro sociale mi permetto di dire che la storia d'Alemanno sia quando ero ministro delle politiche agricole ma anche semplice deputato consigliere regionale è sempre guardato relativamente al sociale magari ci sono delle nicchie che pensano di poter perdere spazio, lo potranno recuperare in altri settori però le cooperative, la cooperazione sociale, le Ollus, il terzo settore per quanto riguarda invece altri compartimenti dell'amministrazione comunale e ovviamente anche dei servizi pubblici devono essere garantiti e su questo c'è la massima trasparenza. Buon lavoro a voi.